Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale di Time's Gadget. Oggi siamo ancora in compagnia del nostro iPhone 11 Pro Max, perché qui a fianco abbiamo il vetro temperato della Spigen, il Glass TR. Un vetro che stavo provando proprio in questi giorni, ve l'avevo già promesso nella recensione che vi ho portato di tutte le cover Spigen, che l'avrete testato per qualche giorno e poi sicuramente vi avrei portato una recensione completa, approfondita e singola. Per parlare solamente di questo vetro. Allora, andiamo prima di tutto a vedere la confezione di vendita, perché io già l'ho installato uno, ma all'interno se prendete questo tipo di confezione, che è quella che vi esce insieme alla Team Fit 360, apprezzo a 19€, devo dire che ne escono ben due, quindi è davvero un ottimo affare. All'interno cosa trovate? Il panno Spigen per andare a pulire il display, andate a trovare i quattro sticker per posizionare il vetro, ma vi consiglio di utilizzarli solamente per rimuovere la polvere. Abbiamo poi due panni imbeuti di alcol, ben due, dato che ci sono due vetri, e poi abbiamo il secondo vetro. Il vetro, allora, della Spigen ce ne sono diversi modelli di vetri. Io personalmente ritengo che tutti un po' vadano bene, però dovete, diciamo, stare attenti, o comunque sta a voi la scelta, se optare per i vetri che vanno a lasciare aperto tutti i vari sensori con anche i sensori per la fotocamera e chiaramente lasciano aperto la capsula auricolare, oppure optare per quei tipi di vetri che hanno tutto coperto e solamente la capsula auricolare scoperta, quindi vanno a coprire i vari sensori e anche la camera anteriore. Io vi consiglio, per una questione di esperienza anche che ho avuto con questi tipi di vetri, seppur all'interno di questi vetri qui, questo in particolar modo, non entra la polvere, ho testato in questi giorni e comunque non è mai entrata, però se andate a coprire anche i vari sensori e la fotocamera, nel momento in cui vi può entrare la polvere, la polvere si va a depositare sopra alle fotocamere e quindi rimane molto molto difficile andarla a pulire o a togliere. Ecco perché vi consiglio questo tipo di vetro che ha, diciamo, l'ascia scoperta la tacca qui sopra. All'interno di questa confezione comunque trovate ben due tipi di vetri. Questo tipo di kit, con questo vetro e il Team Fit 360, ha un prezzo di 19,99€. Devo dire è molto buona come prezzo, perché? Perché seppur non vi interessa del tutto la cover, anche se la cover poi adesso la vado anche a mettere così faccio vedere un po' tutto come sta, diciamo con il kit completo, allora vi posso dire che questa qui non è affatto male come cover, anche se ha un piccolo neo che ho riscontrato in questi giorni di utilizzo parecchio intenso, perché me lo sono portato con me questa cover anche in giro, anche fuori in vacanza, ho riscontrato che all'interno di questi forellini che abbiamo qui sopra, vedete, che vanno a coprire i vari sensori e la fotocamera e anche la capsula auricolare, si va a accumulare polvere e rimane anche difficile e diventa quasi impossibile poi andarla a togliere perché abbiamo proprio questi pallini che la vanno a proteggere e quindi ogni volta dovete staccare la cover, andare a pulire e poi rimetterla. Ecco, forse questo qui forse è l'unico neo che ho trovato con il riscontrato di questo case, abbinato poi chiaramente con questo vetro, ma poi se avete o non avete il vetro comunque è uguale, perché la polvere qui all'interno di questi forellini si va comunque ad accumulare. Per il resto devo dire invece è stata una gran bella cover, seppur non è molto protettiva verso urti e cadute, però comunque rimane molto sottile, piacevole anche da tenere in mano, è abbastanza gommata e poi al prezzo di 19 euro, ragazzi vi posso dire che acquistare una cover e ben due vetri non è affatto male. Io mi sono preparato anche su Amazon questo articolo qui, questo annuncio, perché in pratica avete diversi veti della Spigen, adesso ve lo vado a riprendere perché si era cancellato, allora volevo far vedere come questo vetro, tale a quale a questo vetro, con questo tipo di copertina, non fate caso a questa copertina perché non lo riuscirete a trovare, non ho capito il motivo per cui la Spigen ha cambiato poi le copertine, ha cambiato anche le varie confezioni dei vari vetri, perché su Amazon avete la possibilità poi di andare a scegliere altri tipi di vetri e secondo me sono da una parte meglio, ma da una parte però non vi esce poi la cover. Per esempio, nel primo vetro abbiamo sempre due pezzi, ma avete tutta la parte qui sopra aperta, mentre per esempio su quest'altro modello avete invece tutto chiuso, meno che la cattola auricolare. Su tutti questi vetri, a parte questo qui, questo modello qui da 9,99€, però su qui gli altri modelli da 11,99€ e 10,99€, sia per gli iPhone 11 Pro Max, 11 normali, anche gli XS e gli XS Max, abbiamo un case che vi facilita l'installazione. Purtroppo questo qui è l'unico neo di questo kit se lo prendete con la Team Fit 360, e cioè che all'interno di questa confezione non avete un kit, un bumper che vi facilita l'installazione, seppur è molto semplice, perché non dovete fare altro che tenere di consiglio il display acceso, oppure anche tenere direttamente la cover, l'appoggiate e lo fate cadere. Una volta che lo fate cadere poi si attacca da solo. Se male che va, si forma qualche bollicina d'aria, andate con la pezzetta a spianare e la fate fuoriuscire, queste bolle d'aria verso i bordi, lungo i lati. Comunque, tutti questi altri modelli, forse perché proprio questo modello, questa qui, ha già integrato la cover, che vi facilita un po' l'installazione, però per il modello da 11,99€, questo qui, che vedete, ha proprio il suo kit con tutta la parte in plassi del case per andare a installare, oppure quest'altro, che ha tutto il bumper perimetrale, trovate sempre due vetri con tutto il kit installazione, ma trovate anche questo tipo di sistema che vi facilita l'installazione del vetro, seppur comunque, vi ripeto, non è assolutamente complicato. Sono queste qui le piccole differenzazioni che ci sono fra questo kit con Team Fit 360 e invece con il kit se prendete il singolo vetro. Oltre al fatto che poi questo qui viene 19€, mentre quegli altri vengono 10€, 9,99€, 11,99€, poi a seconda del modello del kit che prendete. Sta a voi poi la scelta se prendere la tacca scoperta oppure far coprire tutta la tacca. Oltre a questo però, di questo vedo, volevo anche parlarvi di una piccola cosa. Volevo anche farvi vedere le varie compatibilità con le cover. Perché? Perché ho provato questo vetro con tutte le cover che ho fino ad oggi disponibili per questi nuovi iPhone e vi posso dire, adesso ve le ho portate una pair di ogni marca qui da un lato, ve le ho portate tutte, che con tutta e la maggior parte delle cover, con il 99% delle cover, riesce a funzionare. Quindi è compatibile. Quindi quelle della Moshi, chiaramente quella della Spigen, della Wild Urban Armored Gear, della Hotterbox, della Mouse Limitless, oppure anche della Spec. Abbiamo anche tutta la serie che è compatibile delle Rhinosheed, compreso anche il bumper, che non crea nessun tipo di problema. L'uniche, l'uniche due con cui ho trovato problema, ma sono un po' le classiche di cui ve ne ho parlato anche tante altre volte, sono quelle se qui della Hotterbox, che sarebbe in particolar modo poi la Defender, non con tutti gli altri modelli, perché chiaramente, purtroppo, come tanti altri casi, come in tante altre volte che vi ho fatto vedere questi vetri per questi smartphone, sono tutte le cover che hanno la griglia, la loro cornice davanti, e quindi non mi riferisco solamente a questa Hotterbox, ma mi viene in mente anche la Sapcase, la Unicorn Beetle Pro, oppure anche qualche modello delle Blason, che anche questa azienda ha altri modelli di cover, con la griglia davanti, questa qui anteriore, che si va a staccare, per chi di voi non lo sapesse, queste qui sono cover che hanno, e questa cornice perimetrale anteriore, che si va a staccare in questa maniera. Ecco, questa cornice è quella che dà fastidio ai vetri. Con questi tipi di cover non è mai compatibile, a meno che non prendiate un video della Hotterbox, con la quale l'azienda vi garantisce che sia compatibile anche con queste Hotterbox Defender, e chiaramente poi rimane compatibile anche con gli altri tipi di cover che hanno questa griglia davanti. Ma oltre a questo modello, però, un altro modello con cui quest'anno ho visto che non è compatibile, ma non solo quest'anno, anche per gli altri modelli va la stessa cosa anche per gli anni precedenti, sono queste qui, che sono tutte le cover waterproof. Attualmente ho un Lightproof Fre, o Free, ditemi, poi non so neanche come si chiama, come si pronunci, però con tutte le cover creando la protezione davanti per il display, perché sono waterproof, queste qui con questi modelli non va assolutamente bene. Per quale motivo? Perché, oltre al fatto che la cover ha uno spessore decisamente minimale, e quindi, diciamo, si calcola al millimetro, e ciò vuol dire che la cover con un vetro, seppure è molto sottile come vetro, ma non si va a chiudere, perché le aziende hanno calcolato per queste cover la chiusura, e quindi anche l'altezza del telefono solo, senza un tipo di vetro, senza nessun tipo di pellicola. Ma oltre a questo fatto, anche se non so, provate qualche pellicola e riuscite a chiuderla, vi crea problemi con il touch, perché due tipi di vetri, due tipi di protezione del display, non riesce ad arrivare il touch. Ecco perché allora vi consiglio anche di stare attenti, se nel caso volete optare per una copia del genere, non vi conviene acquistare un vetro di questo tipo o comunque una qualsiasi altra protezione per il display. Poi per il resto ragazzi, con il tutto e il resto delle altre cover vanno veramente bene. E invece poi che dire di questo vetro temperato? Il vetro temperato va una meraviglia. Devo dire che è uno dei migliori come rapporto qualità-prezzo, perché? Perché arriva esattamente preciso a filo con il display, quindi ecco il motivo per cui rimane sempre compatibile con tutte le cover che abbiamo sul mercato, a parte questi due modelli che vi ho fatto vedere fino ad ora. L'ho provato in questi giorni perfino con i guanti e funziona bene. Chiaramente se vedi i guanti, quelli lì con il touch, ma con tutto che c'è il vetro comunque funziona egregiamente. Vi faccio vedere, ho aperto una nota, vi ho preparato per farvi vedere anche la reattività scrivendo a mano. Guardate qui come riesce sempre a mantenere il tratto. È davvero un ottimo vetro. Vi posso dire ragazzi che funziona egregiamente, funziona molto molto bene. Guardate, su tutta la superficie non va mai a perdere il dito. E questa qui è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché su questa fascia di prezzo è molto difficile seppur non impossibile perché comunque parliamo di un vetro flat quindi non abbiamo la difficoltà dei vetri curvi come per esempio mi vengono in mente i tanti telefoni la serie della Samsung o anche i nuovi Huawei IP30 o IP30 Pro specialmente perché IP30 non ha il vetro curvo però su questi vetri flat comunque non abbiamo nessun tipo di difficoltà. E vi posso dire che a questo prezzo risulta davvero un ottimo vetro. Mi è piaciuto sotto tanti aspetti, sotto tutti gli aspetti vi posso dire anche per quanto riguarda la riflessione anche per quanto riguarda l'oliofobicità del vetro guardate andiamo a piggiare e comunque non trattiene mai le impronte quindi anche sotto questo aspetto devo dire si è comportato molto bene. Non crea nessun tipo di riflessione strana non crea l'effetto arcobaleno non abbiamo un puntinato che si intravede quando lo mettiamo in conto luce vi sto dicendo adesso tutti i puntinei che ho riscontrato sui tanti altri vetri che ho provato e quindi funziona egregiamente anche adesso qui non ce l'abbiamo il force touch però se tenendo un premuto comunque è molto reattivo anche sotto questo aspetto non crea assolutamente problema e poi una volta installato non si creano bolle d'aria perlomeno se utilizzate le cover compatibili non avete mai problemi di bollicine d'aria o angoli che si vanno ad alzare quindi davvero ottimo oltretutto questo qui poi è un vetro che ha una durezza di 9H quindi è anche molto molto resistente sia agli urti che ai graffi io comunque ragazzi vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione sia a questo vetro che a tutti gli altri vetri che vi ho fatto vedere prima che ci sono disponibili su Amazon poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate quale avete scelto o se ne avete già provato qualcuno e chiaramente come vi trovate poi ragazzi per qualsiasi altra informazione lo sapete sono qui a vostra disposizione mi potete sempre contattare qui sotto nei commenti su YouTube oppure contattami tramite tutti gli altri canali social in privato tramite Instagram o anche il gruppo di Telegram a cui io poi vi invito sempre ad iscrivervi anche di questi canali social compresi anche il canale su Twitter e su Facebook vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione come ultima cosa ragazzi vi chiedo sempre se vi è piaciuto questo video e vi piacciono questi tipi di recensioni e volete che ve ne porti degli altri lasciatemi un bel like qui sotto mi fa sempre molto piacere e lo sapete mi aiuta anche a supportare il canale detto questo ragazzi noi ci vediamo alla prossima video recensione da Tami's Gadget per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora ciao